Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno. Cominciamo come di consueto con il santo e poi vedremo le previsioni del tempo e i giornali. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Martino di Tours che visse nel IV secolo, quando ormai la religione cristiana era riconosciuta e presente in vari ambiti come a corte, nell'esercito e nelle città, ma mancava, restavano da evangelizzare le campagne. E così si dedica appunto San Martino ed è uno dei santi più amati e venerati dell'antichità. Il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 16.49. Il tempo avremo oggi brevi rovesci nelle ore centrali della giornata, soprattutto in collina, in montagna e in particolare nel settore centro-settentrionale. Quindi come vedete dalla grafica siamo nella parte, diciamo, al confine con l'Umbria in montagna. Avremo venti lungo la fascia costiera, centro-settentrionale, in serata con intensità di vento moderato. Domani il tempo peggiora, martedì con cielo e pioggia ovunque in tutta la regione. Avremo precipitazioni diffuse insistenti, soprattutto nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio con accumulate abbondanti alla fine della giornata. Avremo anche temperature in diminuzione la notte, in aumento invece nei valori massimi. Perché? Perché il vento sarà sud-occidentale, di brezza tese, tesa nelle zone interne e sarà di vento fresco lungo tutta la costa, con raffiche però fino a burrasca. Non dimentichiamocelo che ci saranno mareggiate domani lungo le coste esposte, in particolare lungo il litorale centro-meridionale. Per quanto riguarda lo scenario meteorologico, sarà ancora caratterizzato da giornate con debole instabilità a causa della discesa in successione di perturbazioni dal nord atlantico. Ancora un po' di cattivo tempo nella giornata di mercoledì, poi giovedì comunque dovrebbe migliorare. E adesso andiamo a leggere i titoli delle notizie più importanti. Il Corriere Adriatico apre questa mattina a proposito di mareggiate con le scogliere e con un altro parere favorevole a queste scogliere sulla zona di Ponente a Pesaro. Arriva il sì della Regione per queste barriere anti-erosione. Lo sport del lunedì a centro pagina sul Corriere Edizione di Pesaro. Si parla della Vis che pareggia al Benelli contro Limolese 1-1, mentre i Granata sono, quindi parliamo del Fano, beffati a Modena, che segna il 2-1 allo scadere del secondo tempo, al novantesimo minuto. Ma c'è anche spazio in prima per la VL. La situazione adesso si fa pesante perché è arrivata l'ottava sconfitta su altrettante partite di campionato e ha fatto risaltare anche l'ingenuità e l'inesperienza della squadra di tutta la VL che migliora sotto tanti aspetti, ma rimane sempre un gradino sotto agli avversari. Andiamo a vedere il resto del Carlino Edizione di Pesaro. La fotonotizia è per Via Fermo, dove c'è desolazione, inquinamento proprio alle porte della città. Un mare d'amianto, questo è il titolo. E poi sull'atleta di Fano, in Lisippo, così il fronte si spacca. Protestano i fanesi, scavalcati dalla mossa del comitato per riportare la statua in Italia. E dicono, non sapevamo assolutamente nulla. A centro pagina, sulla cronaca di Macerata, i nostri morti senza pace, a Rigopiano, bottiglie di vino che finiscono all'asta, la rabbia delle famiglie. Mentre sulla cronaca di Ancona, i balordi della plastica, rifiuti gettati ovunque e allerta anche in mare. Dicevamo dell'atleta di Fano e di questa iniziativa che francamente lascia un po' così stupiti, soprattutto noi che siamo sul fronte fanese. Una sorpresa che ha coinvolto un po' tutti. Perché? Perché queste iniziative proposte da questo nuovo comitato, che al suo interno ha un solo fanese, che è l'avvocato Tristano Tonnini, ed è sostenuto da un'associazione culturale di Urbino, l'Arte in Arte, così si chiama, e che è stato presentato sabato mattina in provincia, a Pesaro, senza nemmeno avvisare il sindaco di Fano, Massimo Seri, nel gruppo di lavoro che tra l'altro già esiste a Fano e che è stato costituito dall'amministrazione comunale all'inizio dell'anno. Ne scrive Anna Marchetti questa mattina sul resto del Carlino e ha raccolto un po' lo sfogo anche di Dino Zacchilli, che è il promotore appunto del comitato fanese. Che dice Zacchilli? Resto molto sorpreso di questo suo passo fatto nel più assoluto silenzio, riferendosi all'avvocato Tonnini, con il quale dice Ci siamo sempre detti tutti, ci siamo sempre detti tutto quanto, senza problemi. Abbiamo coinvolto sempre tutti, sono molto dispiaciuto, perché così si rischia di dividere il fronte e di indebolire la posizione di Fano nei rapporti con il Ministero, soprattutto. Fano si è già candidata ad essere la sede dell'atleta vittorioso, con il progetto del museo dedicato alla dearchitettura. di Vitruvio da realizzare proprio all'interno del teatro romano. Insomma, questa corsa in avanti di questo gruppo, di questo comitato, francamente, lascia un po' perplessi. Sulla cronaca di Fano, sulle pagine di Fano invece del Corriere Adriatico, si dà spazio al restyling unico da attuare dal Lido a Ponte Sasso, quindi su tutto il lungomare del comune di Fano. Ed è l'assessore Fanesi che spiega le prime linee guida del più grande e costoso progetto atteso entro fine mandato, quindi da qui ai prossimi 4 anni. E' uno degli elementi più importanti che ci saranno in questo nuovo piano, meno automobili che sfrecceranno sul lungomare, ripeto, dal Lido fino a Ponte Sasso. E quindi il volto di Fano dovrebbe cambiare notevolmente da qui ai prossimi 5 anni. L'opera, dice ancora Cristian Fanesi, avrà il compito di sostenere poi gli altri investimenti ricettivi da parte dei privati, perché bene, certamente, sicuramente sistemare tutto il lungomare, però resta un altro grande, grandissimo problema per Fano, che è quello degli alberghi, delle strutture ricettive, che vanno assolutamente realizzate, perché i nostri alberghi purtroppo sono un po' datati e quindi andrebbero anche qui richiamati investimenti privati e quindi persone, imprenditori che vogliono investire sulla nostra città. Paci, che vedete in questa fotografia al centro, ecco cerchiato qua insieme a Vilberto Stocchi, il rettore dell'università, a Lisi, il sindaco di Acqualagna, poi abbiamo il presidente Papalini di Confindustria e Renato Claudio Minardi, che è il vice presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Allora, Paci, che è il proprietario della Profilglas, concretezza proiettata al futuro, dice, è stato premiato con il premio Enrico Mattei, il fondatore della Profilglas, consegnato da Papalini alla presenza di Stocchi e Lisi, Minardi dice, è l'uomo del fare, la commozione dell'imprenditore, che dice, passione e squadra di grande valore. C'è tutto l'articolo che troverete sul giornale di questa mattina, sul Corriere Adriatico. Sulla mobilitazione Ocean, Rossini dai sindacati, il parlamentare dei Cinque Stelle dice, noi siamo vicini ai lavoratori locali, non ci sono margini di errore. Noi siamo una televisione di ispirazione cattolica, che fanno TV, lo sapete, da 13 anni. Il resto del carino questa mattina pubblica in anteprima un sondaggio, un sondaggio di Nando Pagnoncelli, che uscirà il 14 di novembre, tra qualche giorno, sulla rivista Vita e Pensiero, periodico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo, i cattolici, più con la Lega che ammessa. I fedeli, assidui diminuiscono, mentre la Chiesa non incide più nelle valutazioni di voto. Bumbi, preferenze per Salvini. Il Partito Democratico, i Dem hanno i migliori risultati tra gli assidui, cioè coloro che vanno ammessa assiduamente, che sono il 26,9%, e sono al 20% tra gli occasionali. Mentre i grillini vanno bene, hanno consenso più elevato, tra i non credenti, sono il 18,9%. Ma sempre le colonne del Carlino ospitano il parere del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che si rivolge ai fedeli, laici responsabili in politica. Una settimana dopo l'endorsement prolega di Camillo Ruini, il Cardinale, l'avrete sicuramente sentito, arriva il richiamo appunto del Cardinale Bassetti. Torniamo nella nostra provincia. Una targa per Ismaele Lulli. Siamo a Sant'Angelo in Vado, perché non accada più. Il monito del sindaco, i vadesi si stringono attorno alla madre, Deborah Lulli, nel ricordo del figlio Ismaele assassinato. L'evento si è tenuto nel giardino dove lui è cresciuto. Grande emozione, ha detto. Deborah mi batte il cuore a mille e se fosse qui a vederci, lui ne sarebbe felicissimo. Ma cara Deborah, lui era lì a vederti. Benvenuti in Via Fermo, dove è finito tutto. Siamo sulla cronaca di Pesero. Cappannoni sventrati, tetti spaccati in amianto, rifiuti abbandonati ai lati della strada, compresa una barca, insomma c'era di tutto. Il racconto di un residente e questa è la fotografia di quest'uomo, muratore in affitto, nella casa di colore rosso in fondo alla via, ogni mattina schiva i rifiuti. Sotto l'opinione dell'assessore Andrea Nobili, abbattiamo e creiamo il futuro. Al posto delle vecchie fabbriche ci realizzerei contenitori per start-up e alloggi per giovani coppie. Questa è invece la pagina della cronaca di Macerata, perché l'abbiamo visto poco fa sulla copertina. Queste bottiglie di vino che erano presenti all'interno dell'albergo a Rigopiano, sapete quell'albergo che è stato spazzato via da una valanga di neve qualche anno fa. Queste bottiglie andranno all'asta e parlano i familiari di queste 29 vittime, di questa valanga killer. Nella tragedia di questo hotel rimasero uccise 29 persone, come abbiamo detto, i genitori di Bonifazi dicono che le superlettili dovevano stare in un museo delle memorie, invece andranno all'asta. E' anche vero che non c'è nulla di irregolare, nel senso che l'asta si è resa necessaria perché per saldare i debiti di un vecchio fallimento dell'hotel. Quindi dicono loro non ci possiamo far nulla, ma dal punto di vista morale possiamo parlare come. Sarebbe stata una scelta di buonsenso recuperare tutti gli oggetti che si erano salvati all'interno dell'albergo e farne un museo del ricordo perché mai accada più una cosa di questo genere. E poi dice una mamma c'è chi ha pagato 1800 euro questa bottiglia, noi invece non riusciamo più a fare nemmeno un brindisi da quel giorno maledetto. Torniamo sulle cronache di Pesaro. Ponente, il sì della regione alle barriere anti-erosione, parere favorevole per la valutazione di impatto ambientale, ma ora è corsa contro il tempo, i lavori alle scogliere devono iniziare a breve per poter essere terminati a inizio stagione. Questa invece è l'altra pagina di Pesaro Primo Piano, ex AMGA, slitta la presentazione del piano per la bonifica dell'area, si allungano i tempi per la riqualificazione del sito da tempo inquinato. Poi sulla pagina 4 invece del Corriere Adriatico va ripensata la viabilità a largo tre martiri. Si è presentata la lista di centro-sinistra per Soria e Tombaccia. Questura, la questura di Pesaro, 30 anni di attesa e siamo ancora ai preambuli. Duro, il SIULP, il sindacato di polizia, con l'anzi, frega della CGL, il sindaco non può più perdere questa partita. e poi dalle notizie di oggi del Corriere Adriatico, in breve, c'è questa fotografia di Frate Mago che probabilmente molti ricorderanno, l'hanno visto, Frate Mago che ha regalato uno show alla parrocchia di San Paolo a Tombaccia, sabato sera. Frate Mago è molto popolare perché intanto è bravo, poi è ospite di molte trasmissioni televisive e di recente, ecco il motivo, si è esibito anche davanti a Papa Francesco che gli ha benedetto il mazzo di carte dopo che il Frate ha indovinato la carta che Papa Francesco stava pensando. A Valefoglia, palestra gioiello per Monte Labate, avrà la vernice, anzi ha, la vernice antincendio, LED, l'illuminazione a LED e le tribune. Oggi, dopo il restyling, riapre l'edificio di Via Leopardi, la sindaca Ferri dice terzo intervento dal 2016 ad oggi. E poi, vi segnalo sempre da a Valefoglia un show al Paladionigi dove Filippo Graziani canta il papà Ivan. Un concerto di beneficenza, casting per il film, un appuntamento che si terrà il primo di dicembre e che appunto vedrà sul palco Filippo Graziani e suo fratello Tommy, figlio, figli del grande cantautore Ivan Graziani insieme ad altre persone. Acqualagna si è chiusa la 54esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco con un grande successo di pubblico, tanta gente, numeri da record, il tartufo saluta tutti tra gli applausi, il sindaco di Acqualagna Lisi dice eleganza, qualità ed eccellenza. Miravamo ad offrire una visione del territorio più elevata a livello turistico e insomma ci siamo riusciti. Allevamento, siamo a San Lorenzo in campo, nei giorni scorsi si è tenuta una assemblea pubblica e il giorno dopo questa assemblea prende la parola Giovanni Fileni che è il titolare di questa grande azienda che ha sede nelle Marche agli Esi e che produce carni, quindi polli in particolar modo e parla soprattutto ai residenti di San Lorenzo in campo, a coloro che fanno parte del comitato che si batte perché non venga costruito questo grande allevamento nel territorio di San Lorenzo. Perché? Perché il comitato ha un po' paura, paura in termini di odori, di impatto ambientale, di impoverimento del territorio perché si costruiscono dei capannoni però Giovanni Fileni che vedete in questa fotografia nell'articolo sul Corriere Adriatico dice tutti i problemi e tutte le preoccupazioni insomma dice addirittura che nel sito che costruirà a San Lorenzo in campo verrà realizzato anche un allevamento biologico quindi sappiamo benissimo che il disciplinare per il biologico è abbastanza rigido di conseguenza tutte quelle che sono le preoccupazioni del comitato ecco dovrebbero sparire a San Lorenzo in campo dice Fileni nel nostro intervento tra l'altro andremo a bonificare una zona industriale dismessa quindi ormai abbandonata da molti anni e soprattutto piena di amianto e se volete tutti i particolari li troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina mentre a Barchi il castello è al buio da troppo tempo interviene in questo caso l'ex sindaco Bacchiocchi che bacchetta la giunta di terre roveresche dice in questa nota che è firmata da Noi siamo terre roveresche dice la maggior parte delle sere il castello rimane completamente al buio vorremmo chiedere l'attuale amministrazione che fine ha fatto il progetto elaborato nel 2016 dalle precedenti amministrazioni comunali di Barchi Orciano e Piagge per l'adeguamento e l'ampliamento di tutta la pubblica amministrazione degli ex tre comuni incinta dopo il tumore questa è una storia che arriva da Senigallia lei dice la chiamerò Vittoria qualche anno fa Vittoria 41enne commerciante con la passione per le motociclette scoprì purtroppo di avere un tumore lo sconfisse con la chemioterapia poi qualche qualche mese fa pensava di che fosse ricomparso questo questo tumore invece si accorta che era semplicemente incinta e quindi chiamerà questa futura piccola bimba con il nome di Vittoria che dopo la terapia appunto dice Francesca mi avevano detto che non avrei più potuto avere dei figli poi invece il miracolo che emozione vedere nell'ecografia il saluto che ci scambiamo noi motociclisti ecco la bambina sembra infatti fare il segno vedete della V di Vittoria davvero spettacolare questa immagine ora siamo allo sport allora andiamo a vedere insieme le due pagine che parlano del Fano sul Corriere Adriatico un'altra beffa dicevamo per i Granata perdono 2-1 a Modena quinta sconfitta di fila per la squadra dell'Alma puniti al novantesimo dal Modena e ora ultimi da soli in classifica fatale una dormita nella difesa sul lancio delle retrovie alla fine è inutile il gol di Barbuti complimenti ma niente punti Fontana allenatore dice torniamo a casa ancora a mani vuote ma sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi qualcuno piangeva nello spogliatoio sono convinto che usciremo da questo momento difficile queste invece sono le due pagine che riguardano la Vis Pesaro sempre dal Corriere Adriatico eppur si muove la Vis Voltan nella ripresa rimedia al gol di Nghie San vabbè ve lo risparmio i biancorossi hanno anche protestato per un rigore la Vis Pesaro che pareggia in casa contro Limolese per 1-1 viste le assenze Pavan ha schierato dall'inizio Gabbani e Pannitteri che se la sono cavata comunque bene e Pavan dice questo per noi è un punto d'oro 7-21 per chi ci segue in diretta allora velocemente andiamo a rivedere le pagine principali dei due quotidiani Corriere e Carlino allora è arrivato il sì della Regione Marche per la costruzione delle nuove barriere anti-erosione in mare sulla spiaggia di Ponente di Pesaro a centro pagina lo sport l'abbiamo appena visto e poi il caso che divide cioè a San Lorenzo in campo l'allevamento di Polli noi tuteliamo l'ambiente risponde il titolare dell'azienda omonima Filenig Questura preamboli dopo 30 anni di attesa duro l'anzi del SILP contrario all'ex intendenza frega del SILP invece dice Ricci non può perdere la partita questa invece è la pagina di Pesaro del resto del Carlino sulla sulla fotonotizia un mare d'amianto in via fermo desolazione e inquinamento alle porte della città ma si parla soprattutto sulle cronache di Fano che interessano anche Pesaro di questo di questa fuga in avanti di un comitato che adesso è nato che non ha nulla a che fare con Fano a parte un suo componente che abbiamo già visto essere l'avvocato Tristano Tonnini questo comitato che si batterebbe per portare per riportare in Italia l'atleta di Fano così il fronte si spacca protestano infatti i fanesi scavalcati dalla mossa di questo comitato per riportare la Stato in Italia dicono da Fano con Dino Zecchilin in testa che è già responsabile del comitato fanese noi non sapevamo assolutamente nulla di tutto questo poi Celletta le firme sono contro il cemento sono oltre 400 noi non molliamo la lotta per il verde e poi grandi manovre per le regionali Fratelli d'Italia apre e inaugura una sede a Pesaro e con questo possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali che torna come sempre domani mattina in diretta alle ore 7 questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla notizia e poi in diretta abbiamo Primo Cittadino l'appuntamento di questa sera sarà con il sindaco di Fano Massimo Seri grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie per averci seguito